Ti chiedo di votare Partito Pirata perché votare Partito Pirata oggi è la cosa più seria possibile che si possa fare. Pirata deriva dal greco peiran che significa tentare, provare, osare. Ulisse, l'eroe omerico che sfidava la propria fortuna, oggi sarebbe fiero di essere chiamato Pirata. Il Partito Pirata si presenta oggi in 11 paesi europei con lo stesso programma. Tra i punti del programma del Partito Pirata c'è uno in particolare che ritengo molto importante che è la liberalizzazione e la legalizzazione del file sharing. Mi impegno a lavorare con le mie competenze per ottenere questo risultato. Fai la cosa più seria possibile, vota Partito Pirata.